Il Consiglio regionale della Calabria, riunitosi a Palazzo Campanella, ha approvato il nuovo regolamento interno di amministrazione e contabilità e il piano triennale 2016-2018 dell'istruzione tecnica superiore. Con il piano, si legge nel testo, si intende dare organicità e coerenza all'intera programmazione regionale dell'offerta superiore e sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale. Secondo l'assessore calabrese alla scuola e al lavoro Federica Roccisano, intervenuto in aula poco prima dell'approvazione, il piano ha l'obiettivo di creare un'efficiente rete tra mondo del lavoro e istruzione in una situazione di difficile incontro tra domande e offerta di lavoro. Il piano, ha aggiunto, è in linea con gli investimenti del POR per il consigliere Michelangelo Mirabello del Partito Democratico, che ha relazionato sulla proposta il piano rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi dell'ITS con l'auspicio di potenziamento del sistema organizzativo, l'aumento della visibilità dell'offerta formativa e l'apertura al mercato internazionale. Approvato, su proposta dell'ufficio di presidenza durante la seduta di ieri, il nuovo regolamento interno di amministrazione e contabilità di Palazzo Campanella. Il provvedimento, ha affermato il relatore, il segretario questore Giuseppe Neri, si è reso necessario in seguito alla nuova normativa sugli schemi di bilancio della Regione. Le norme sono state così adeguate ai principi cardini della legislazione e sono volte a garantire una maggiore trasparenza.